Allora bambini, problema di matematica. Ci sono tre uccellini su un albero. Un cacciatore spara uno di questi tre uccellini. Quanti ne rimangono Pierino? Ah signora maestra, secondo me col rumore dello sparo scappano, quindi nessuno. Beh, in effetti la risposta esatta sarebbe stata due, ma Pierino mi piace come ragioni. Maestra, maestra, le posso fare io una domanda? Ma certo Pierino, ci sono tre donne sedute su una panchina di un giardino che mangiano un cono gelato. La prima lo lecca solo sulla punta, la seconda lo lecca sui bordi e la terza lo infila tutto in bocca. Ecco signora maestra, vorrei sapere quale di queste tre donne è sposata. La maestra un po' imbarazzata. Beh Pierino, secondo me è la terza. Beh signora maestra, la risposta esatta sarebbe stata quella con la fede. Ma mi piace come ragioni.